Pierpaolo Siano interviene, le sue parole sulla storia di Ida e Mario. Sono emerse nuove rivelazioni su Ida Platano e Mario Cusitore, l'ex tronista e l'ex corteggiatore più discussi dell'ultima stagione di Uomini e Donne. I telespettatori sanno che la trasmissione si è conclusa con la decisione della parrucchiera di Brescia di lasciare lo studio da sola, stanca delle continue segnalazioni di lui con altre donne. Lo speaker radiofonico di Napoli ha tentato in vari modi nei giorni successivi di ricucire lo strappo, ma tutti i tentativi finora sono stati vani. C'è ancora una speranza per Mario di riconquistare Ida? Questa è la domanda che molti fan del dating show di Maria De Filippi si pongono. Il programma è in pausa estiva e, da allora, Ida e Mario hanno comunicato solo attraverso i propri profili social. Ida non ha mai fatto riferimento diretto a Cusitore. Mentre lui ha recentemente confessato ai suoi follower il desiderio di riconquistarla. Ora, una persona che conosce molto bene il programma e che ha parlato con Ida ha deciso di chiarire la situazione. Cosa mi ha detto Ida su lei e Mario, rivelazioni dopo Uomini e Donne? In un'intervista a Comingsun, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha spiegato cosa sta accadendo tra Ida e Mario dopo la fine di Uomini e Donne. Ho letto molte cose in giro, ogni tanto sento Ida ed è una persona davvero genuina. Le auguro il meglio. Non stanno insieme né c'è l'intenzione, al momento, di avvicinarsi o di provare a stare insieme. Questo desiderio è venuto solo da parte di lui, ma è stato un modo per ripulirsi da tutto ciò che è successo. Una persona davvero innamorata le avrebbe chiesto di diversi subito al di fuori e non avrebbe omisso una verità confidata, poi, dopo un giorno. È stata una conoscenza, per me, niente di più. Pugnaloni poi si rivolge direttamente ai telespettatori del programma. Molti credono ancora che tra Mario e Ida possa tornare il sereno e incoraggiano lo speaker radiofonico a non arrendersi. Pugnaloni la pensa diversamente, il pubblico deve farsene una ragione e soprattutto deve ridimensionare la situazione. Se davvero vogliono bene a Ida e sperano che una donna, voglio ricordarlo, con un figlio, abbia un po' di serenità dopo storie andate male, devono essere contenti che le cose stiano così e non diversamente. Nel frattempo, anche l'altro ex corteggiatore dell'ex tronista, Pierpaolo Siano, ha espresso la sua opinione su Mario e Ida. Penso che lei abbia chiuso, ha detto in un'intervista al settimanale mio. Siano aveva lasciato lo studio perché si sentiva una ruota di scorta. Spero che in questa scelta sia coerente, ha concluso con una frecciatina verso Ida. Siano aveva lasciato una laurea di scorta.